Ciao a tutti, oggi prepariamo un altro dessert prepariamo una mousse di ricotta con pelle Allora, vediamo come possiamo preparare questo fantastico dessert useremo 250 grammi di ricotta, 200 grammi di crema, 55 grammi di zucchero, 400 grammi di pelle in sara e, se preparate questa cotta per adulti, potete usare un spoon di rum se non, è meglio se non usate alcool, se preparate questo per i bambini prima di tutto, prepariamo la crema e dopo aggiungiamo tutti gli altri ingredienti ora che la mousse è pronta, prepariamo la pelle quindi potremo tagliare in alcuni pelle per decorare la parte e l'altro lo potremo tagliare in piccoli per mettere dentro il nostro cotto ora prendiamo alcuni pelle e metteremo tutti gli ingredienti insieme quindi metteremo la pelle la mousse e poi la pelle quindi prepariamo la crema se vuoi se vuoi puoi aggiungere alcuni pelle io aggiungo alcuni pelle pelle che sono comuni nel mondo il migliore il migliore che puoi aggiungere dentro la mousse è il biscotto perché restano molto crunchy quindi aggiungiamo alcuni biscotti per ora il migliore il migliore il migliore il migliore il migliore è il migliore lo metteremo nel friggio e dopo un'ora andremo a provarlo provando 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 mamma mia spettacolo veramente spettacolare ora provo anche con il biscotto molto 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 bene quindi ragazzi vediamo la prossima ricordate di lasciare mi molto molto mi piace e anche di abbiare al mio canale vediamo ciao ciao proviamo proviamo se vuoi puoi aggiungere alcuni biscotti in questo caso utilizzo biscotti digestivi che puoi trovare mondo ma sicuramente il migliore è biscotti perché veicoli rimane molto veramente semplici come posso dire per questo va oggi saranno